L'iniziativa che vuole andare nella direzione di abbellire, di decorare, abbassiamo il termine, il centro storico, di renderlo anche più accattivante, affascinante? Sì, diciamo che proprio il decoro è la mission di Caracadanzaro da anni, chi ci conosce sa quanto abbiamo fatto per il decoro in questi anni, anche per l'arredo urbano con restauri anche importanti. Adesso ci proponiamo con questa iniziativa che avevamo in mente da tantissimi anni, adesso siamo arrivati a realizzarla, è un'iniziativa che vuole far scoprire anche i cadanzaresi, non solo ai turisti, il grandissimo patrimonio del nostro centro storico, dei nostri vicoli. È un percorso di circa 4 chilometri, alla portata di tutti, che parte dal San Giovanni, è un anello, parte dal San Giovanni, poi si veicola nei quartieri Casearse, Pianicello, Filanda, Stella, tornerà a San Giovanni, però essendo un percorso di anello, si può iniziare da qualsiasi punto in cui chiunque incontri un cartello, lo può iniziare da quel punto e terminare in quel punto. Quello che è, effettivamente, è rimasto il cuore pulsante del centro storico, no? Sì, il centro storico di Catanzaro resiste, resiste nonostante tutti gli attentati che sono stati fatti, a cominciare dagli anni 50 e 60, con le demolizioni e costruzioni di orribili manufatti di ingegnamento armato, purtroppo ne incontriamo tantissimi percorrendo i vicoli di questi, diciamo, fuori contesto, diciamo così. Il centro storico di Catanzaro comunque mantiene un fascino immortale ed è veramente suggestivo frequentarlo, soprattutto nelle ore selali, veramente ci auguriamo che questo percorso serva anche da stimolo per anche per i residenti, per curare meglio il proprio spazio davanti alle proprie abitazioni, per l'amministrazione stessa che, diciamo, ci dedichi anche una particolare attenzione e possa veramente diventare un percorso turistico per i tantissimi turisti che forse non si avverte questa sensazione, ma di turisti a Catanzaro ne arrivano tantissimi, specialmente tra aprile e ottobre, che possono apprezzarlo e veicolarlo a loro volta. Anche il CAI appoggia, aderisce a questa iniziativa. Il Club Alpino Italiano è una presenza storica della città di Catanzaro. Abbiamo dato entusiasticamente la nostra adesione a questo progetto di gara a Catanzaro, disegnare un percorso, un sentiero urbano nella parte monumentale della città. Il Club Alpino Italiano aderisce, ciò facendo, a quelli che sono i suoi valori fondanti, tutela e conoscenza. In questo caso noi diamo un contributo alla conoscenza, io direi, alla riscoperta di un patrimonio ambientale, passeggistico, architettonico di notevole spessore e diamo un grosso contributo alla sua tutela. Portare persone a camminare significa anche tutelare. Sarà uno stimolo per i cittadini e immagino anche per la stessa amministrazione a portare avanti questo progetto di tutela. Noi crediamo moltissimo nel fatto che la creazione di questo percorso sia un'operazione di tutela di ciò che molti catanzaresi purtroppo stanno dimenticando. Noi abbiamo un patrimonio inestimabile e questo patrimonio va riscoperto e tutelato. È un percorso di trekking urbano che parte dal San Giovanni, quindi da Piazza Garibaldi e si dipana per tutto il centro storico e quindi sarà percorso tutto l'itinerario del centro storico, Casearze, Filanda, La Grecia, Bella Vista. Quindi è rimasto il cuore pulsante del centro storico. Esattamente, esattamente. La Grecia, ad esempio, è l'insediamento abitativo primordiale di Catanzaro e questo consentirà anche di riscoprire il centro storico, di scoprirlo per chi non conosce. Io ho detto a conferenza stampa che dei circuiti turistici anche nella nostra città ci sono per ad esempio stranieri che villeggiano sulla nostra costa e che poi vogliono visitare la città o per riscoprirlo per noi catanzaresi. Attraverso quindi la riscoperta di edifici, attraverso la riscoperta di strade, piazze, slarghi, storici. Io ho citato ad esempio lo spiazzo del sole che è un angolo bellissimo di Catanzaro che si chiama così proprio perché è sempre illuminato dal sole. E quindi attraverso questo percorso di trekking urbano noi riscopriamo la nostra città, riscopriamo le bellezze e le diamo la dignità storica che la città merita perché ci sono tanti punti, pensa ad esempio al quartiere ebraico, la cosiddetta Giudecca che dalla piazza del Politeama sale verso il Corso Mazzini. Ci sono tanti punti che devono essere scoperti, riscoperti ma anche valorizzati nella loro dimensione storica e artistica e in questo senso è finalizzata l'iniziativa. Assessore Borelli, questa è direi una iniziativa molto interessante che va nella direzione intanto del decoro del centro storico, renderlo più affascinante, a volte basta poco, basta anche una segnaletica differente, un po' più ricercata proprio per raggiungere questo risultato. Può senz'altro attecchire bene questa iniziativa? Sì, può ma deve attecchire in quanto è secondo me nella sensibilità di tutti i cittadini che credo utilizzeranno questo percorso per riscoprire la propria città e probabilmente anche per indicare questa nuova via di riscoperta anche alle persone che stazioneranno qui in quanto turisti. È una dimensione non nuova ovviamente, i vicoli ce l'abbiamo sempre avuti, ce l'avevamo a pochi metri probabilmente da noi, ma non conoscevamo questa possibilità, quella di poterli forse percorrere in maniera circolare, di poter fare quindi un percorso di trekking urbano che ce li potesse far riscoprire. È chiaro che questo è solo un primo tassello, ma è qualcosa che ci permette di immediatamente mettere a terra quell'imprinting sulla sostenibilità ambientale e sociale che abbiamo più volte dichiarato come elemento portante di questa amministrazione. Quindi siamo assolutamente soddisfatti. Grazie a tutti.